I carabinieri della compagnia di Crotone hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Crotone a carico di un 36enne cotresse ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. Sempre i carabinieri, nell'ambito di servizi finalizzati alla repressione di reati in materia di stupefacenti coadiuvati dai militari squadroneli portato cacciatori di Calabria, hanno scoperto a grotteria una coltivazione di cana pendiana costituita da circa 740 piante di specie nana di altezza compresa tra i 40 e gli 80 centimetri in pieno stato vegetativo, è stata estirpata e distrutta su disposizione della Procura della Repubblica di Locri. I vigili del fuoco di Reggio Calabria sono stati impegnati per oltre 18 ore nello spegnimento di un incendio divampato nel piazzale di una ditta di stoccaggio e smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettroniche e materiali in plastica di vario genere a Campo Calabro. Il rogo è divampato dopo le 14 di ieri ed ha interessato numerosi cumuli di rifiuti posti all'esterno dei capannoni. I disagi sono stati provocati dal fumo denso e acre, sviluppatosi dalla combustione, ma non sono segnalati danni a persone. Due distinte ordinanze di applicazione di misura cautelare messe dai giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, Stefania Rachele e Giovanna Sergi, su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, sono state notificate dagli agenti della squadra mobile a tre reggini, rispettivamente di 53, 58 e 55 anni. L'indagine, eseguita dalla quinta sessione reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, ha consentito di trarre in arresto il 53enne ed è partita dopo l'intervento di equipaggi della volante nel centro città. L'altra attività investigativa, conclusasi con l'arresto degli altri due, è stata avviata invece dalla quarta sessione contrasto al crimine diffuso a seguito dei furti di alcune autovetture avvenute nei messi di ottobre e novembre dell'anno scorso. Nel corso delle indagini, entrambe coordinate dal procuratore vicario Gerardo Dominiani e dal sostituto Domenico Cappelleri, la mobile ha sentito alcuni testimoni ed ha acquisito le immagini registrate da numerosi impianti di videosorveglianza pubblici e privati, grazie alle quali ha ricostruito i suoi fatti, identificandone i presunti autori. E la polizia di Crotone, all'ambito del piano di azione Focus, Antindrangheta, hanno arrestato nell'arco della settimana ben cinque persone, mentre altre cinque sono state denunciate. Altre sei invece sono state segnalate alla autorità amministrativa in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.